TREMEN PURBANK E' l'ultima cosa al mondo che fare è mentirti E' mentirti Vai sul primo piano Spettacolo Sono coinvolto in qualcosa di strano E' qualcosa in cui sono coinvolti tutti Lui non è un attore, è un prigioniero, guardalo bene Se mi dite che succede, io vi denuncio! La Paramount Pictures presenta Tramal! Il nuovo film di Peter Weir Il regista di Witness e L'attimo fuggente E' scappato! Time lo ha definito il film più geniale di Hollywood Qualche fulmine Ancora uno Una svolta decisiva per Jim Carrey E questo è il massimo che sapete fare! Per Newsweek è il film da non perdere Non possiamo lasciarlo morire in diretta Se è per questo è anche nato in diretta The Truman Show è prodigioso Jim Carrey Sospendi la trasmissione! The Truman Show Sospendi la trasmissione! Sospendi la trasmissione! Sospendi la trasmissione! Sospendi la trasmissione!